Ehi, senti un po', chi è l'amico con la Volkswagen? Quello, ci ha seguiti fin qua, ma di chi stai parlando? Ma che fai? Sali in macchina figlio di bustata, niente sto! Ehi, ehi, stai attento amico, ho roba da bere in mano! Cominci a parlare, parli in fretta, pagliaccio incapace! Abbiamo cercato disperatamente di raggiungerli! Come sono i miei soldi, smigollato? Beh, io, 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 non... Quelli soldi non li hanno avuti, imbecille! Non hanno avuto un centesimo! La vita di Banni era nelle sue mani! Questo ci angoscia, Drugo? No, no, bello, non ho sbagliato! Non ha sbagliato! No! Qui c'è un aeroplano che si è schiantato contro le montagne! No, scusi, andiamo, a chi è disposto a credere? A quelli, a... Noi abbiamo consegnato il malloppo! Noi chi? Io! Pluralis maiestatis, lo usano anche i giornalisti! Io ho consegnato il malloppo esattamente come... Senta, io ho delle informazioni certe, lo sa, alcuni fatti venuti alla luce! Senta, l'è venuto in mente che invece, invece di girare in tondo e prendersela con me, data la natura di questa faccenda strana, la cosa potrebbe essere anche più... complessa, voglio dire che potrebbe non trattarsi di un semplice... Capito? Si può sapere di che accidenti sta blaterando? Ah, glielo dico io di cosa sto blaterando! Ho avuto delle informazioni, amico! Merda, che è venuta a galla! Cazzo, amico! Si è rapita da sola, ecco!